Vai, ora è 19.50, siamo nel punto più alto della tua riflessione, siamo già adesso Voce? Niente, adesso 166,6 metri dall'altitudine normale, e qui di più, quindi 190 metri in uno dei posti più alti dell'Estonia Ora noi stiamo a 190 metri, vabbè mondo qui, cioè già lì stiamo a 160, 190 metri dal mare stiamo Sempre dal mare, e qua invece dove stiamo, 30 metri neanche, 20, 25, vabbè sì, 20, 25 Io ho proposto in sud 319, 18 In tutto 600? In tutto, in questo, in Estonia Eh, quel po' di più alto? Sì, questo, 318, in sud e estonia, toppe di 4 Ah, stop! Sono un geletto, mi sto cagando letteralmente sotto io, forco 2 non fare mai più Ma che ho scoperto, allora? E pregiunto? E questo è il giusto? Ah, ecco, amici, guardate, guardate, guardate Vai, c'è la terra E se ne mette bene Ora? Chiudiamo? Cosa? Chiudiamo? Chiudiamo dai, ci vediamo prossimamente dai, adesso scendiamo dai dai Maschè cazzo amici, vabbè Perché onda? Sì, come onda? Prima sono andato sul lago io, sul pedagogio ho problemi sul lago Muschiamo dopo Eh? Prendi il tetto, prendi il tetto Vabbè, non ho niente, mi chiede però Questo è il sangue Dovano uccidere le persone E tu sei il prossimo Sì, no, io sono il prossimo che uccide, cioè te Ma a me era vera Vabbè dai, saluto 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 Saluta in estro, dai, insieme Dai Dai 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0